Si può dire che ho dei dubbi su Lords of the Fallen? Ciao a tutti e bentornati, ma soprattutto ciao a te, perché so che ti stai per iscrivere al canale, per entrare a far parte di questa grande famiglia che è Top Games Italia. E qua sotto in descrizione trovi anche i link ai nostri gruppi Facebook dedicati ai videogiochi che portiamo qua sul canale e troverai infatti anche Lords of the Fallen, gruppo in cui potrai condividere le tue build, la tua storia all'interno del gioco e magari cercare anche aiuti e consigli. Mi scuso anticipatamente se sto arrivando in ritardo sul nuovo trailer di Lords of the Fallen, ma ieri ero all'evento di Nakona a Milano, dove hanno annunciato e hanno presentato i nuovi pad per PlayStation 5 e vi assicuro che sono assolutamente incredibili, ma ne parleremo magari in un video dedicato. Quindi, senza alcun indugio, andrei a vedere che cosa succede in questo nuovo trailer. Iniziamo! Allora, intanto, al di là che ci dicano che Lords of the Fallen è un Souls-like RPG, super dark fantasy, bello di nuova concezione, eccetera, La grafica a me sembra particolarmente bella, perché effettivamente gli ambienti sono spettacolari. Ci troviamo mille anni dopo gli eventi originali, quindi dopo il primo Lords of the Fallen, quello che a me proprio non è piaciuto. Siamo nella terra di Monstred, una regione con i demoni, i demoni incazzati, tra l'altro. E qua, scusatemi, ma fino a qua me l'ero spoilerato, e, ecco, questo è un corvo di Elden Ring. Ora, ci sono un po' tante similitudini con Elden Ring. Nel momento in cui prendi Malenia, prendi alcuni nemici, prendi alcune ambientazioni, prendi il fatto che ci sia un sottosopra, come in Stranger Things, prendi i corvi di Dark Souls, di Elden Ring, e poi ci metti la testa dei teschi di Elden Ring e, hey, hai fatto Elden Ring. Ma vediamo. La mano è un elemento ricorrente. C'era anche nel primo Lords of the Fallen. Cinque le dita, cinque i beacon che sono sparpagliati in giro per il mondo, tecnicamente. Però queste ambientazioni, devo essere sincero, sono molto 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 belle da vedere e spero effettivamente che in game si veda così la grafica perché sarebbe veramente un peccato che queste cose le abbiano fatte soltanto per abbindolarci, sinceramente. L'ambientazione del bosco, le ambientazioni dei ruderi, delle zone comunque in disfacimento sono, secondo me, una chiave del gioco e devono essere strutturate in maniera quantomeno decente. Non parlo tanto di level design, ma parlo di una questione visiva, cioè quello che vediamo mentre ci muoviamo all'interno del gioco. In pratica la resurrezione delle forze infernali e ora mi sfugge il titolo, ma mi viene in mente quel videogioco dove spari a tempo di musica. Metal Hellsinger, ecco, un po' una storia che, ehi, riprende anche Metal Hellsinger, ma comunque ci troviamo davanti a una situazione del tipo il male sta per risorgere e sti cazzi. Ecco, su di lui mi voglio soffermare un attimino. Vabbè, è in copertina, è il cattivone, ci picchia, ci ammazza e tutto il resto, però noi possiamo scegliere la classe del clavaliere oscuro se compriamo la Deluxe Edition. Non è una cosa che mi faccia impazzire. Nel senso, il gioco deve essere completo quando esce, deve essere uguale per tutti, non che mi metti una, diciamo, un qualcosa in più che io compro per avere il personaggio prima. Lascialo sbloccabile giocando. Semmai dammi un qualcosa di insignificante all'inizio, dammi un qualcosa tipo una skin, dammi una pozza in più, dammi la possibilità di utilizzare, che ne so, un incantesimo, un qualcosa che comunque non mi vada a cambiare drasticamente il gioco. Mentre darmi una classe a pagamento vuol dire cambiare drasticamente l'inizio, il principio e l'approccio al gioco che una persona potrebbe avere. Non mi piace, è una cosa che stanno incominciando a fare in tanti, lo paghi di più e inizi a giocarci quattro giorni prima, tiettelo. Lo paghi di più, inizi a giocare con una classe extra, tiettela. Lo paghi di più e inizi con dieci miliardi di soldi finti e tienteli. Il gioco è bello per questo perché è una crescita, è uno sviluppo, tu inizi e cresci col gioco. Se mi dai già la possibilità di barare, tra virgolette, non lo so, non mi fa impazzire come idea. Questo è il cacciatore e la meccanica della lampada mi piace molto e non riprende Medium. La meccanica della lampada riprende Legacy of Cain. È un chiaro richiamo, c'è un riferimento e oltretutto anche l'estetica di quello che vediamo richiama un po' Legacy of Cain con un miscuglio brutto di Giger. E lo ammetto, cioè per quanto a me piaccia Giger e per quanto mi piace vedere comunque alcune illustrazioni ispirate al suo lavoro, in questo caso in alcune parti è un po' impastato. Non è un lavoro pulito dritto ma ci sono differenti richiami mescolati insieme. Ci sta perché nel complesso e soprattutto nell'ambiente che viene creato grazie alla lampada va tutto bene. Però ecco, forse mi sarei aspettato un qualcosa più alla scorn rispetto a un impasto mal riuscito in questo senso di grafica estetica a cozzati uno sopra l'altro. Perché diciamo che finché l'ambiente è puro quindi siamo in Umbral o siamo in Axiom è tutto bello, cioè funziona. Quando tramite la torcia sbirciamo nell'Umbral dall'Axiom secondo me lì si incasinano un pochino le cose. Ma io spero che questa parte venga gestita molto bene perché praticamente vuol dire caricare i due mondi parallelamente e tenerli realmente caricati dall'inizio del gioco. Cioè quando tu inizia una zona hai sempre i due mondi caricati parallelamente perché tu in qualsiasi momento puoi saltare da uno all'altro. Ecco, è di questo che parlo. Stiamo guardando la stessa scena e mi hai aggiunto le manine. Ora, non riesco a capire se le manine sono soltanto nell'ambiente che sta guardando. Sì, sono soltanto nell'ambiente che sta guardando. Abbiamo un cerchio davanti a noi. La fusione è sporca. Io non ho la percezione che la luce della lampada mi faccia vedere dall'altra parte. Ma semplicemente vedo. Punto. E questo un pochino mi disturba ma credo che fosse l'unica soluzione perché per non appesantire soprattutto il gioco completo poi finito che avremo tra le mani tra poco. Ecco qua Malenia a sinistra abbiamo Malenia ed è lei a destra abbiamo Sauron e al centro abbiamo Van Helsing credo che ci sta, eh, ripeto ma anche meno sarebbe stato meglio forse questo è molto Stranger Things questa ambientazione qua in particolare è molto Stranger Things mi piace mi piace, funziona non so ancora come saranno quelle zone lì quindi non saprei dire ma così a colpo d'occhio è molto bello da vedere e soprattutto anche le scene che stanno facendo vedere sono molto equilibrate come, diciamo, come immagine non sono mai 100% di qualcosa ma c'è sempre equilibrio in quello che ci fanno vedere. Qua è il gameplay e questo qua se non mi ricordo male l'avevamo anche già visto e abbiamo le mazza a frusto che sono una cosa molto divertente nel gioco c'era anche nel primo qua è completamente Scorn in questa scena in particolare è Scorn in tutto e per tutto e qua e in queste cose ci sono richiami a Giger perché poi comunque abbiamo l'intrecci dei corpi da una parte abbiamo quello che vedremmo in Umbral dall'altra parte quello che sarebbe in Axiom poi c'è questo vuoto intorno che a me è un pochino turba perché non so come andranno a colmare questa zona cioè come se il nostro mondo fosse sospeso in un nulla non lo so non mi convince per alcuni versi però ripeto l'ambientazione funziona guarda qua questa è effettivamente una cosa che mi fa venire voglia di girare all'interno del mondo di gioco perché il bosco è appagante da vedere è molto ben fatto e queste ambientazioni qua secondo me rendono se sono riuscite a gestirle bene cosa che non sono riuscite a fare con le fiamme perché questa non è colpa del computer ma guarda attentamente le fiamme al centro dello schermo cioè il mondo si sta muovendo a 30 45 frame le fiamme vanno a 7 8 è una cosa inguardabile in questo senso però oddio è un trailer lo posso far passare chi se ne frega anche in questo caso abbiamo il mondo che si muove ad una velocità le fiamme che si muovono completamente ad un'altra aia fermi tutti ora ecco forse stiamo un po' tanto esagerando qua addirittura andiamo a riprendere Silent Hill con Pyramid Head ora non so la funzione del personaggio in particolare ma mi metti una campana in testa a un tizio e gli dai una cosa gigantesca tra le mani e lui è grosso è Pyramid Head non lo so ragazzi c'è tanta 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 ispirazione bella in alcuni casi perché per esempio questo personaggio per me è magnifico contestualizzato oltretutto perché l'ambientazione deve essere proprio sua proprietaria cioè lo troviamo lì e poi ci sono queste situazioni dove grazie alla lanterna noi possiamo attraversare delle zone che in verità non potremmo raggiungere qua si vede molto bene il raggio d'azione della torcia se fate caso a sinistra delle scritte dei sottotitoli si vede ancora il cerchio che la torcia crea di conseguenza io credo che possa arrivare anche abbastanza distante come utilizzo ma lo vedremo vediamo la mappa abbiamo i 5 beacon di cui parlava abbiamo il discorso della mano la rosa direzionale il nostro ovest-est abbiamo a destra tre statue giganti e secondo me questo ha un significato all'interno del gioco come ha un significato la lanterna a destra della scritta monstred mornstead ok ora poi me lo scrivo nel cervello e magari riesco anche a pronunciarlo ma quello laggiù sembra un faro all'apparenza di un faro le zone che vediamo partiamo da una zona sicuramente partiremo da in basso dove c'è la mano per risalire verso la città poi arriveremo ad un bivio da qualche parte ci sarà un bivio dove noi potremo andare dai beacon che stanno sulla sinistra della mappa o continuare verso quelli di destra la zona finale sicuramente sarà quella tutta bianca che abbiamo sotto la scritta del mondo e nel mezzo potremo fare cose varie ed eventuali perché ad esempio io mi chiedo che cos'è quel sole in alto a sinistra sopra la torre è un sole spento di conseguenza probabilmente dovremo andare a farci qualcosa l'oceano il mare intorno non mi aspetto che serva a qualcosa in particolare anzi penso proprio che non servirà a niente non sarà neanche calpestabile dietro ai sottotitoli c'è un'altra piccola cappelletta qualcosa di varia ed eventuale e sopra subito sopra nel beacon di sinistra a metà troviamo scusatemi ho il mouse ve le posso indicare le cose non ci pensavo in questo momento troviamo qua penso che siano delle grotte un qualcosa di simile qua mi ricorda molto cavalieri dello zodiaco saliamo ci sono i templi dei cavalieri d'oro ma questa cosa qua e questa mi mettono un grosso dubbio perché sembrano la stessa cosa solo che da una parte è funzionante e dall'altra no che sia un qualcosa da attivare durante il gioco lo scopriremo in questo senso qui abbiamo gli ingrandimenti delle zone perché questi qua sono dettagli sulle zone questa potrebbe essere qualcosa che si trova qua molto probabilmente l'albero vediamo se sulla mappa si vede un albero solitario che potrebbe essere qua dietro volendo ha un senso potrebbe anche essere qua però però no mi sembra più grossa mi sa che è questa ed è un beacon ci sono un sacco di dettagli in questo trailer cioè ci stanno è molto bello da vedere qui abbiamo di nuovo le due statue e notate una cosa hanno queste statue qua in alta sinistra hanno anche loro la campana in testa quindi sicuramente questa qua è la zona dove vedremo piramide head con la campana e qua abbiamo anche gli interni direi che è la zona questa qua direi che è questa zona qua dalla quale possiamo entrare in questo ambiente perché ci sono comunque dei livelli di ascensori delle zone con le scale qua vediamo un muraglione a me sembra che sia l'unica zona che ha un muraglione così alto qua ce n'è un altro ma non è così elevato qua non c'è niente quindi boh oserei dire che quello che vediamo è questa zona qua qua ci sono i mulini a vento e i mulini a vento li vediamo nella scena subito dopo che sono questi quindi abbiamo identificato anche la posizione di quelli questo qua è un boss che incontriamo quindi lo incontreremo in questa zona qua molto probabilmente e vediamo di andare avanti che se no questo video durerà 16 anni ah questa qua mi piace un casino di scena l'avevamo già fatta vedere in un altro trailer che grazie alla torcia noi vediamo anche i nemici dall'altra parte però l'interazione dei nemici con la torcia non mi è troppo chiara nel senso se io inquadro con la torcia un nemico che sta in umbral lo posso comunque attaccare dall'axiom o devo per forza andare in umbral per poterla attaccare questo non l'ho capito però diciamo che queste scene dell'umbral sono assolutamente suggestive sono ben fatte e mi piace anche il concetto che non abbiano i volti personaggi che ci sono inquadrati è una cosa molto bella e allo stesso tempo opprimente comunque eccolo qua qua si vede bene qua si vede bene il cerchio che crea la lanterna in altre situazioni probabilmente dove c'è più luce negli spazi aperti non è troppo chiaro eccoci qua questo è l'umbral come dovrebbe essere così è molto è molto 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 oppressivo cioè molto più bello da vedere rispetto a che utilizzare la lanterna e basta cioè entrarci fa tutto un altro effetto qui abbiamo Van Helsing che va in giro con una magia castata attacchi in corsa gente che levita questo è uno degli alberi che si vedono prima nelle varie illustrazioni di nuovo mi dispiace da dire ma mi ricorda di nuovo dei personaggi dei nemici di Elden Ring anche in questo caso mi ricorda quello i colpi cioè il colpo mi prende ma il sangue sembra incollato non sembra far parte del gameplay è una cosa che non mi non mi sconquimfera mostri giganti vabbè quelli ci vogliono come sempre il cavallo questo qua ovviamente credo che sia un avversario noi non abbiamo cavalcature in questo gioco Attack on Titans abbiamo anche quello perfetto me l'ero perso Malenia con anche la balestra quello doveva essere un arcivesco un arci duca un qualcuno di importante questo è il nemico di cui parlavo prima che si vede nell'illustrazione questa boss fight in particolar modo deve essere molto 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 impegnativa perché come si vede l'area di attacco del nemico è veramente vasta è grossissima molto bella questa scena ecco la classe la classe dell'hunter del cacciatore comunque quella con l'arco deve essere completamente sbilanciata rispetto a tutte le altre perché l'ho vista usare anche in vari trailer quindi a quanto pare è la più semplice e anche la più rotta da utilizzare quindi se non abbiamo la possibilità di usare il Dark Crusader utilizzeremo comunque un hunter perché mi interessa capire quanto rompe il gioco un arco ecco Van Helsing è c'è armatura pazzesca riflesso giusto materiali spettacolari colori giusti sfocatorina giusta faccia che sembra incollata da The Sims mi sembra giusto anche questo lui lo troviamo in diverse copertine qui abbiamo invocato un aiutante questa la parte del multiplayer voglio approfondirla perché a quanto dicono non c'è il limite tu invochi un amico e ci fai dall'inizio alla fine senza farlo tornare indietro questa cosa è da approfondire da capire se effettivamente è così perché se hanno fatto questa cosa secondo me hanno fatto cento perché è quello che vogliamo tutti tant'è vero che ad esempio in Elder Ring ci sono le mod per farlo e sono le più scaricate in assoluto cioè è la più scaricata in assoluto avere un gioco che di base mi permette di giocare in due punto bella storia le magie qua come avevo già detto sono dei PNG nel senso non c'è neanche questa scritta dovrebbe essere dietro al personaggio perché io vedo prima il personaggio e poi la scritta che mi si crea davanti e in questo caso è un PNG applicato sull'immagine molto semplicemente non lo so non lo so è cheap è brutto da dire lo so così ma è la percezione dell'immagine nel senso qua meglio qua il personaggio c'è davanti ma in quel punto il personaggio c'era davanti e comunque non veniva calcolato dal PNG dall'immagine che si crea in questo caso oltretutto anche qua ma l'avevo già trattata questa parte i raggi attraversano i nemici senza senso cioè il nemico non è colpito se tu colpisci un nemico con questo raggio il nemico continua a compiere l'azione che stava facendo infatti questo qua sta schivando e continua a schivare vabbè è anche schiattato però mentre il feedback dei colpi mi sembra ottimo in questo senso cioè il nemico lo accusa ogni volta che viene colpito si sposta leggermente ed ecco qua il nostro amico Pyramid Head che ha dato una facciata probabilmente dentro un roseto perché ora è pieno di spine e ne abbiamo versioni diverse qua ci sono tutti i personaggi le classi le armature bla 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 e queste le abbiamo già trattate oltretutto anche in un articolo gigantesco perché la scena animata per lanciare la lancia? non ho mica capito questa cosa non l'ho capita perché c'è la scena animata quando tira la lancia? che senso ha? cioè io carico la lancia nel momento in cui la tiro mi fa sempre la cutscene o è vincolata a quel personaggio lì? questa cosa è è abbastanza atturbante però abbiamo gli oggetti da lancio che secondo me anche in questo caso romperanno il gioco perché la vedo già scritta come storia questa non mi è piaciuta proprio per niente guardate la guarda l'animazione guarda qua allora lui muove il braccio boom si crea questo agglomerato di roba sulla destra non meglio definito e ci sta ok perché qua per terra ci sono tutti i cadaveri ossa eccetera e poi si genera da sotto l'onda cioè non è quell'oggetto che è esploso che si trasforma in onda ma l'oggetto che è esploso sparisce e parte un'onda no questo non mi è piaciuto il movimento non è fluido per niente però questi effetti per quanto siano tra virgolette poveri a me piacciono cioè è bello vedere comunque elementi di questo genere sullo schermo e qua l'iconografia richiama il sole e richiama dark souls anche questo ma oltretutto richiama quel sole che c'è sulla mappa quel sole spento che dicevo prima sopra la torre chissà che non abbia tutto un collegamento sta roba queste sono vabbè tutte le tipologie di magia che possiamo utilizzare elettrico fuoco i poteri oscuri eccetera con il cavaliere il dark crusadeer possiamo pomparci le difese pompare l'attacco e tutto il resto gli attacchi fiammeggianti sembrano quelli più efficaci però sappiamo già un piccolo dettaglio che gli sviluppatori sono dei burloni e la zona iniziale è fatta tutta di nemici che hanno resistenza al fuoco quindi non c'è tripa per gatti e niente non faremo nulla col fuoco complessivamente cioè ste scene qua sono belle da vedere sono un gradino sopra tantissime altre cose che abbiamo visto anche questa cioè questo è un dipinto è un dipinto dove solo la porta si muove va bene ma funziona è tutta equilibrata è tutto al posto giusto è bello da vedere cioè questa roba qua se fosse realmente il gioco così vince vince anche solo per la grafica degli ambienti lo studio degli ambienti la mia paura è che sia tutto troppo quello che ci stanno facendo vedere è tutto tanto esagerato anche queste scene qua vabbè lui è appena arrivato da Mordor e sappiamo tutti chi è ma ok ci sta c'è anche in in Elden Ring in Dark Souls il tizio che cavalca i draghi e ora volevo vedere un dettaglio sul portale dove si ficca si genera il portale ok e lui lo attraversa per una volta l'hanno fatto giusto perché nella boss fight lui compare completamente a caso e qua ragazzi pre-order esce il 13 ottobre ci siamo praticamente è alle porte e io ho tanta paura sono abbastanza spaventato da quello che sarà Lords of the Fallen perché lo ripeterò tutte le volte la fregatura l'ho già presa prendere la seconda mi scoccerebbe parecchio ma posso sperare in bene perché effettivamente il lavoro finora visto non è male non è assolutamente male i movimenti dei personaggi mi piacciono le ambientazioni anche le magie sono abbastanza varie le cose che si possono fare sono parecchie e le classi da utilizzare anche quindi incrociamo le dita e niente fammi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensi quelli che vedi sono tutti senza luce e non che si sono iscritti e abbonati al canale puoi entrare anche tu a far parte di questa lista di nomi bellissimi che ringraziamo all'uscita di ogni video e abbonandoti facile e e e Grazie.